Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear the screaming of the sun? Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, Fortbyte numero 5! Il più importante di questa season perché ci permette di sbloccare la skin! Singolarità, vero ragazzi perché la maggior parte di noi con questo Fortbyte arriverà al numero 90 e si trova proprio nella discoteca dove ci sono le fabbrichette vicino all'impianto, al vecchio laboratorio della latrina. Stiamo parlando ovviamente delle fabbriche presenti tra Borgo Allegro e Lande Letali, esattamente nell'unica discoteca. Qua ragazzi troverete il Fortbyte, dovete ballare il passo del relax. Una volta ballato potrete sbloccarlo, lo prendete e quindi otterrete il novantesimo Fortbyte. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live! Ciao! Noi ci vediamo!